Poche ma non rassicuranti informazioni trapelano dallo staff di Loredana. Dopo il ricovero, poche ore prima della data romana della cantate, si aggiungono nuovi aggiornamenti condivisi oggi, 13 marzo, sui profili social. La data prevista per il 15 marzo è stato posticipato al 10 maggio. Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana, si legge nel post, a causa di problemi acute all'intestino, a cui Loredana è già stato. Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero, nessun'altra informazione sulle condizioni di salute della grande cantautrice. Per questo motivo si è reso necessario rinviare il concerto, siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Tor. Vi terremo aggiornati sulle altre. I biglietti saranno validi per la nuova data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato. Già lo scorso anno la cantante aveva subito un'operazione improvvisa sempre nella zona addominale che l'aveva costretta a cancellare. Il decorso dell'intervento era stato però abbast... Un post condiviso da Loredana Bertè chiocciola Loredana Bertè o